Buongiorno ragazzi, quali sono i tre errori che un principiante, una persona che si approccia al mondo dell'escursionismo e dell'outdoor da neofita non dovrebbe commettere? Non sono qui a dirveli perché sono un grande esperto, tutt'altro, sono errori che a suo tempo anch'io ho commesso e negli anni ho avuto modo di rifletterci su. Sapete quali sono questi errori? Eccoli là, siete in molti tra i miei iscritti che vanno in montagna da un po' di tempo e penso che sicuramente sapete di cosa sto parlando. Adesso facciamo una cosa molto molto interessante, io mi fermo un attimo, voi stoppate il video e andate subito nei commenti a scrivere quali sono i tre errori che un principiante dell'escursionismo non dovrebbe commettere. Io ne ho pensati tre ma voi potete scriverne quattro, cinque, tutto quello che vi viene in mente. Stoppate il video ora e scrivete. Fatto? Ok partiamo. Errore numero uno, forzare le tappe. Forzare le tappe significa voler fare tutto e subito, pretendere di affrontare fin da subito itinerari molto impegnativi. Un atteggiamento di questo genere avrà come unico effetto quello di rendere la vostra prima uscita un inferno e nei casi peggiori vi farà addirittura desistere dall'idea di praticare escursionismo. Le cose vanno sempre affrontate per gradi e l'outdoor non fa eccezione. La prima cosa su cui dovete porre l'attenzione è la vostra forma fisica. Se avete uno stile di vita sedentario e non siete allenati è bene intraprendere un periodo di preparazione prima di andare ad affrontare un trekking, un'uscita in montagna. Cominciate con delle brevi camminate di qualche chilometro in pianura e poi magari potete abbinarci degli esercizi a corpo libero per il potenziamento degli arti inferiori, degli squat, degli affondi e via dicendo. Curate l'alimentazione e in generale cercate di avere uno stile di vita sano. Ad ogni modo prima di intraprendere qualsiasi percorso che sia di dieta o che sia di allenamento chiedete sempre un parere al vostro medico di base. Errore numero due. Comprare subito attrezzatura costosa. Viviamo nell'era del consumismo e ci hanno ormai convinto che qualsiasi problema si risolve acquistando qualcosa. In realtà prima dell'attrezzatura vengono le skills. Guardate bene che non vi sto dicendo di non comprare attrezzatura costosa, vi sto dicendo semplicemente di non farlo subito perché se siete dei neofiti, probabilmente nel corso degli anni con l'esperienza, cambiate d'idea su molte cose e quindi sentire dell'esigenza di cambiare anche l'attrezzatura. Al di là del costo, quando si parla di attrezzatura per l'outdoor, l'importante è che sia di qualità. Questo vi permetterà di affrontare l'uscita in sicurezza. Errore numero tre. Avere l'ossessione della vetta. Andare in montagna con in testa l'idea della prestazione, secondo me è assurdo. Non è che se arrivate in vetta c'è qualcuno ad aspettarvi per consegnarvi la coppa o il mongolino d'oro. Di certo non apparirete più fighi agli occhi dei vostri amici o della vostra fidanzata, anche perché a loro della montagna non gliene frega una mazza, altrimenti verrebbero con voi. Non si va in montagna per raggiungere a tutti i costi la cima, si va in montagna per fare della sana attività fisica, per godere dell'aria fresca, per godere del panorama e in generale per stare bene. Se sono stanco o se c'è qualcosa che non mi convince, qualsiasi cosa, torno indietro, punto. Bene ragazzi io ho concluso, vi ho elencato i miei tre errori, adesso vediamo se sono gli stessi che avete scritto voi. Vi invito se non l'avete fatto prima a lasciare adesso un commento, raccontatemi le vostre esperienze da neofiti che me le vado a leggere con molto molto piacere. Ricordatevi come sempre di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Un saluto ragazzi, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.